Questa guerra si combatte con la cultura, del comportamento civile, della libertà, noi non possiamo combatterla con la chiusura perché i cassieri di tutti i supermercati, che poverini erano immalati, ci hanno dimostrato che se si rispetta le regole non ci sa mala di Covid quindi sono i genitori, noi stessi, che dobbiamo educare tutti coloro che ci stanno intorno a cercare ognuno di fare la nostra parte perché non si morirà di Covid ma si morirà per mancanza di lavoro. C'è tanta malezza e sconforto nelle parole della presidente di Confcommercio Toscana ed Arezzo, Anna Lapini. L'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri prevede infatti la chiusura per ristoranti e bar alle 18, piscine, palestre, poi in quarantena come teatri e cinema. Si va a colpire i settori secondari, ma quali sono i settori non indispensabili, chi è che lo stabilisce, qual è il parametro? L'ennesima ammazzata così per un intero settore che conta migliaia di addetti e che in tutta la Toscana rappresenta il 65% delle realtà produttive. È chiaro che la chiusura alle 18 provoca tutta una serie di ricadute, in primis gli operatori ovviamente di questo settore. Ci sarà un ulteriore 30-40% di situazioni a rischio, che non è detto che siano solo chiusura ma comunque anche un forte ridimensionamento. Indubbiamente quelle aziende o quelle imprese che già nei 75 giorni precedenti avevano il lockdown, avevano comunque subito per le scelte del governo, probabilmente non ce la faranno già adesso. Tra i commercianti si alza così il grido di protesta. Il 28 ottobre si terrà una manifestazione a Firenze e in altre 17 città italiane. Apparecchieranno queste tavole in terra, perché sono a terra, in silenzio e con dignità, proprio per dimostrare che veramente... Ma com'è pensabile di fare aprire una pizzeria? La pizza si mangia la sera, lo sappiamo tutti, al giorno non si mangia. Io credo che veramente, rinsisto, dobbiamo abituare i nostri simili a comportarsi come si deve, non farli chiudere ma abituarli o se necessario multarli fino all'inverosimile in modo che ci si comporti bene.